Musica 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 Qui volo a K36, torre di controllo, mi sentite? Pronto, pronto, a K36 Musica Alla K36, abbiamo perso il contatto, rispondete! Torre di controllo, torre di controllo, qui a K36 Mi sentiamo forte e chiaro Ragazzi, che avventura, roba da non crederci Ma dove diamo? Vi eravate cacciati A Cardaland, e dove se no? Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS